Scelte Così, come scegli il miglior abito da indossare, la perfetta pettinatura, le scarpe adatte, quel profumo dalle note sublimi, gli accessori minuziosamente abbinati per quella serata speciale. Così, con lo stesso impegno e coinvolgimento, abbia altrettanta cura di scegliere le migliori parole da dire, i più significativi gesti d'amore che tu possa fare. Così, come curi il tuo corpo facendo attività fisica, cibandoti dei migliori prodotti alimentari, biologici, freschi, leggeri, allo stesso modo cura e nutri la tua anima, cercando di elevare ogni giorno la tua parte spirituale. Allenandoti con costanza, come fai in palestra, a donare amore, a pensare al bene del prossimo, a essere come tu vorresti fossero gli altri con te. Siamo abituati a guardare la parte esteriore, ma quello che più conta è ciò che contiene. La vera bellezza sta nel tutto e quando avrai curato le parti nascoste, brillerai davvero. Ricorda che i veri tesori sono sempre celati. L'amore è la forza più immensa e trascinante dell'universo. Solo l'amore conta. Alla fine di tutto, solo l'amore resta. Alla fine di tutto, solo l'amore. 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 Grazie a tutti.